Buon consiglio, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi di Maria Non Quansatis, giunta alla venticinquesima puntata di tutta quanta la rubrica, mentre da otto puntate, questa è la nona, stiamo trattando il tema di Maria Santissima corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità, ora siamo in particolare dentro l'ambito della mediazione di Maria Santissima, della mediazione mariana e stiamo appunto vedendo Maria mediatrice di tutte le grazie ed è questa già la quinta puntata dedicata a questo argomento che stiamo cercando di affrontare nella maniera più esaustiva possibile, dando voci a vari orizzonti della spiritualità cattolica per comprendere bene questo tema. In particolare adesso stiamo, e oggi concluderemo se Dio vuole, leggendo e meditando la famosa Omelia di Acqueducto di San Bernardo da Chiara Valle, quindi dottore della Chiesa, dottore Mariano, che spiega attraverso la caratteristica tipica, come abbiamo visto la volta scorsa, della teologia monastica, quindi farcita di profonda spiritualità e soprattutto biblicamente molto molto radicata, in che senso la Madonna appunto è mediatrice di grazie. La volta scorsa abbiamo letto e meditato i paragrafi dal 4 al 6 di questa lungomedia, oggi dovremmo fare appunto se Dio vuole dal 7 al 9 e concludere. Nella prossima puntata avremo la possibilità di chiudere un pochino con questo tema, vedendo infine l'applicazione liturgica che la Chiesa fa della tematica della mediazione mariana con la messa appunto Maria Santissima Mediatrice di Grazia. Dunque, riprendiamo la lettura, la volta scorsa abbiamo fondamentalmente visto come Maria Santissima fu l'acquedotto delle grazie, che era collegato alla fonte stessa di ogni santità che è Dio e come raggiunse tra rivette, bellissimi passaggi dell'omedia, grazie alla forza del desiderio, al fervore della devolzione e alla purezza della sua preghiera. Abbiamo visto come anche la Madonna ebbe ed ha in sé non soltanto una pienezza di grazia per sé, quindi per la sua missione e per la sua straordinaria santità, ma anche grazie sovrabbondanti per tutto il genere umano. E come ella fu colei che capopozze e rovesciò completamente la disfatta di Eva e quindi per questo Dio vuole che i fedeli la vennerino e la amino con profondo affetto. Da qui riprendiamo la lettura dal settimo paragrafo che adesso appunto comincio a leggere. Venneriamo dunque con tutto l'impedo del nostro cuore, dei nostri affetti, dei nostri desideri, Maria. Così vuole colui che tutto volle che noi avessimo per mezzo di Maria. Questa, ripeto, la sua volontà, ma per il nostro bene. In tutto e per tutto Egli provvede a noi miserabili, conforta la nostra trepidazione, e tiene destra la nostra fede, rafforza la nostra speranza, scaccia la nostra diffidenza, rialza la nostra pusillanimità. Avevi timore di avvicinarti al Padre, atterrito al solo sentirlo parlare? Correvi a nasconderti tra le foglie? Ma Egli ti ha dato Gesù, quale mediatore? Cosa non otterrà un tale figlio da un tale padre? Egli sarà certamente esaudito per la sua pietà, il Padre infatti ama il figlio. Ma forse temi anche di avvicinare Gesù? Ma è tuo fratello, è carne tua, in tutto provato, meno che nel peccato, per essere misericordioso verso di te. Questo fratello te lo ha dato Maria. Ma può darsi che tu temi, tema quella maestà divina che Lui si nasconde, perché sebbene gli si sia fatto uomo, è rimasto ugualmente Dio. Vuoi dunque avere un avvocato, anche per accostarti a Lui? Allora ricorri a Maria. L'umanità di Maria è pura, non solo perché è pura da ogni peccato, ma pura per una singolare prerogativa della natura. Io sono certo che anche lei sarà esaudita per la sua pietà. Sicuramente il figlio esaudirà la madre, il Padre esaudirà il figlio. Figlioni miei, questa è la scala di noi peccatori. Questa è la mia più grande fiducia, questa è tutta la ragione della mia speranza. Perché no? Può forse il figlio non accogliere la supplica della madre? Oppure non essere esaudito dal Padre? Assolutamente no. Hai trovato grazia presso Dio, disse l'angelo a Maria. Giustamente. Maria troverà sempre grazia presso Dio. Ed è soltanto della grazia che noi abbiamo bisogno. La Vergine Saggia non cercava la sapienza, come Salomone, o le ricchezze, o gli onori, o la potenza. Cercava la grazia, perché è solo con la grazia che noi siamo salvati. Ecco, qui appare, oltre in tutta quanta la profondità, ci mettiamo adesso un attimo in riflessione, che è terminato il settimo paragrafo, appare non soltanto, ecco, la profonda spiritualità e santità, ma anche la straordinaria, come nel nostro ordinario spessore teologico, ecco, di San Bernardo da Chiaravalle. No, attenzione, il fondamento, anche qui, della mediazione della Madonna, c'è stato un passaggio molto fondamentale, qual è? È la volontà di Dio. Noi dobbiamo sempre pensare che tutto quello che attiene, l'abbiamo già visto altre volte, a ruoli particolari che la Madonna ha avuto, non vanno mai intesi nell'ambito della stretta necessità, né nell'ambito della limitazione o decurtazione o, come dire, degradazione del primato e dell'importanza di ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Sono tutte e due vie assolutamente fuorvianti. La grandezza, l'eccellenza, il ruolo, la funzione di Maria Santissima sono stati decisi da sempre dalla Santissima Trinità. Quindi perché vuole Dio che tutto volle che noi avessimo per mezzo di Maria? Perché lo vuole. Questa, dice San Bernardo, è la sua volontà, ma questo è ridondo al nostro bene. Noi dobbiamo sempre ricordare che la volontà di Dio, che è la nostra vita, non è, perché anche su questo tema nel corso della storia, adesso io non vorrei fare puntate un po' troppo teologiche o per altri aspetti un pochino pesanti, no? Però su questo tema della volontà di Dio ci sono state tante questioni anche nel corso della storia, no? Primo fra tutti il volontarismo, di Guglielmo d'Occam, che poi ha dato vita ad una certa tendenza anche nella teologia francescana, che però poi purtroppo nella sua degradazione ha sfociato in alcuni aspetti del tutto negativi delle aree della riforma protestante. Cioè, che cosa voglio dire? La volontà di Dio non è qualche cosa, come dire, di assurdo. Cioè non è che Dio fa una cosa così. Dice, vabbè, questa cosa Dio la vuole, quindi è inutile che indaghiamo. Si deve fare così, punto e basta. Allora, certamente noi non abbiamo la capacità di comprendere i disegni di Dio, tantomeno di andarli a sondare fino in fondo. Però la volontà dell'Altissimo non è una volontà arbitraria o che fa le cose così, non diciamo a capocchia, senza senso. Ma quando fa una scelta, quando fa una cosa, significa che tra tutte le cose teoricamente possibili riguardo quella cosa, quella fatta da Dio è la migliore di tutti. Questo l'abbiamo già visto tante volte durante questo ciclo di catechesi. L'abbiamo visto anche per la redenzione, no? Era indispensabile salvare il mondo così come è stato concretamente salvato? Indispensabile, assolutamente necessario? No. Questo è stato deciso dalla Santissima Trinità. Ma che sia stato fatto in questo modo, non è che dice, vabbè, è morto in croce però, poteva pure succedere qualche altra cosa, tanto era la stessa cosa. No, non era la stessa cosa. D'accordo? La redenzione si sarebbe dovuta avere anche in altri modi, ma non sarebbe affatto stata la stessa cosa. Perché non è, ripeto, che Dio tira al bersaglio, quindi che facciamo? Ci stanno queste quattro alternative e facciamo la conta, come i bambini, no? Oppure spariamone una. No, cioè, noi dobbiamo stare... È chiaro che adesso, come sto parlando io, ma che lei dice affatto le una? Chi è mai che pensa queste cose? Questo è una radicalizzazione, capite? Ma già quando uno brontola dinanzi a un evento sgradevole della propria vita, sta dimenticando questa verità. Cioè che quello che Dio vuole, sia con volontà dispositiva, che con volontà permissiva, è sempre per il meglio. Quando poi Dio agisce con volontà dispositiva, proprio in senso assoluto, quindi non condizionata dal libero arbitrio delle cause seconde, lui fa sempre le cose migliori che ci stiano da fare. Per cui che la Madonna sia mediatrice delle grazie, vuol dire che questa è la cosa migliore da fare. Cioè, come diceva in termini, proprio riprendendo questo Melia, San Luigi di Monforte dice abbiamo bisogno di un mediatore presso il mediatore? Sì, lo dico arditamente e dico il vero. Ne abbiamo bisogno e come? E la Madonna è la persona più adatta a prendersi questo ruolo. Perché? Perché gliel'ha dato il nostro Signore. Quindi quando San Bernardo in questo paragrafo parla delle scale, dice come faccio io a salire a Dio? La scrittura ci dice abbiamo come mediatore l'uomo Cristo Gesù. Ma San Bernardo stesso, e questo è un tema identico a quello visto in San Luigi di Monforte, Gesù non è solo un uomo come me, è anche Dio. Quindi ha la sua maestà infinita. Quindi non sarebbe opportuno, opportuno, d'accordo, non necessario avere anche presso di Lui uno che è tutto dalla parte nostra, che è tutto simile a me, non solo, ma una donna e una donna madre. Attenzione, che ha la stessa tenerezza di madre nei miei confronti, ma la stessa tenerezza di madre l'ha nei confronti del figlio. E il figlio nei confronti della madre, come dire, ha una sorta, tra virgolette ovviamente, di debolezza filiale. Perché Gesù, alla Madonna, le vuole bene. E se la può fare contenta, la fa contenta. E se non dovesse farla contenta, nel senso che, dovesse dire, questa grazia, mamma non te la posso proprio fare, solo perché dovesse proprio vedere che è proprio una cosa che non si deve proprio fare. D'accordo? Quindi non può neanche, come dire, fare una cosa, non potrebbe fare una cosa neanche per accontentare il cuore eterno della mamma. Ma io penso che questa cosa, in concreto, non potrebbe succedere mai. Perché mai la Madonna, che conosce benissimo la Divina Volontà, andrebbe a chiedere qualche cosa che fosse non bene per colui o con lei per il quale la chiede. Quindi è impossibile. Quindi, vuoi un avvocato per accostarti a lui, allora ricorri a Maria. Capite? Noi tutti quanti vogliamo, io a volte, questo è un mio pensiero personale, quindi è assolutamente opinabile. Gesù è vero uomo, è vero Dio, quindi Gesù è giusto e misericordioso, come si addice, è misericordioso in quanto, come dire, vicino a noi, la lettera degli ebrei citata da San Bernardo, qui anche qui ci sono una montagna di citazioni esplicite o implicite della Bibbia, non sto pesantendo il discorso facendole notare tutte quante, no? Diciamo, è stato provato in tutto come noi si legge la lettera degli ebrei, è in grado di venire in soccorso delle nostre infermità, quindi non è misericordioso solo, perché anche la Santissima Trinità, anche il Padre è misericordioso, non la misericordia è un attributo divino, ma lui è misericordioso a doppio titolo, sia in quanto Dio, ma sia anche perché ha vissuto la nostra vita, conosce la nostra debolezza dal di dentro, ecco, però ovviamente c'è anche l'infinita maestà di Dio, quella per la quale egli è infinitamente santo, è giusto, nella Madonna questo secondo aspetto non c'è, c'è solo un'umanità signora nostra, le ripeto, un'umanità di donna, quindi molto più delicata, è un'umanità di madre, quindi privarsi di questo mezzo è folle, d'accordo, perché è un dono che il Signore ci ha fatto, è una risorsa che il Signore ci ha dato, quindi non è né un optional, perché non possiamo considerarlo tale, né un di più, d'accordo, ma è qualche cosa di necessario, tra virgolette, e di bello, è bello ricorrere a Maria, a colei che ha trovato grazia, presso Dio. può forse il figlio non accogliere la supplica della madre, dice San Bernardo, o non essere esaudito dal padre, assolutamente no. Andiamo a leggere l'ottavo paragrafo, abbiamo concluso appunto dicendo con San Bernardo che la grazia è solo con la grazia che noi siamo salvati, ed è l'unica cosa da ricercare in senso stretto, anche qui possiamo chiederci insomma se è quanto condividiamo, come certamente dovremmo, però il dovere, un conto è quello che concretamente è, dovremmo condividere questo pensiero, che la grazia è ciò che è sommamente necessario, tutto il resto è relativo, non è indispensabile. Allora, l'ottavo paragrafo dice così, perché fratelli desideriamo altre cose, quindi altre cose al di cuore della grazia? cerchiamo piuttosto la grazia, cerchiamola per mezzo di Maria, poiché ella ottiene sempre quello che domanda e non resta mai inesaudita. Cerchiamo anche noi la grazia, ma quella di Dio, non quella degli uomini che è fallace. Vandano pure altri alla ricerca di ricompensi, a noi preme trovare grazia. Infatti, che cosa altro mai dovremmo desiderare? Non è forse per la grazia che ci troviamo qui? Certamente per la misericordia del Signore se non siamo ancora dannati. Chi siamo noi? Siamo spergiuri, omicidi, adulteri, rapinatori, insomma, la spazzatura del mondo. Fate pure il vostro esame di coscienza, fratelli, e vedrete come laddove abbondato il peccato sovrabbondi la grazia. Maria non va in cerca di ricompense. Ella cerca solo la grazia. È tanta la fiducia che ella ripone nella grazia e tanta la sua umiltà da rimanere confusa dinanzi al saluto dell'angelo. Maria si dice, Maria dice, si domandava che senso avesse tale saluto. Senza dubbio ella si riteneva indegna di quel saluto angelico. Viete a credere che ella andasse domandandosi tra sé se come mai un angelo del mio Signore viene a me? Non temere, Maria, non meravigliarti. Maria, che un angelo venga a te. Viene uno che è superiore all'angelo. Non stupirti per un angelo del Signore. Il Signore degli angeli è con te. E poi perché non dovresti vedere un angelo tu che già vivi da angelo? Perché non dovrebbe un angelo visitare una sua compagna di vita? Perché non dovrebbe salutare te? Che sei concittadina dei santi e familiare di Dio. La virginità è infatti vita angelica e coloro che non prenderanno né moglie né marito saranno come angeli di Dio. Ecco, qui San Bernardo finisce citando quel passo del Vangelo, quindi quando Gesù risponde alla domanda dei salducei ci esiste la risurrezione di Dio. Se uno prende sette mogli poi alla risurrezione con chi va a questa moglie, no? E dice i figli della risurrezione non prendono moglie e marito come figli di questo mondo ma saranno come angeli del cielo in quanto figli della risurrezione, no? Anche questo paragrafo è bellissimo, bellissimo perché dopo aver riaffermato l'importanza del primato della grazia e anche la doverosa presa di coscienza che noi siamo stati graziati quando eravamo peccatori che è per la misericordia di Dio se non siamo ancora dannati. Questo è un punto molto, molto, molto importante e durante un cammino autentico di santificazione di vita cristiana ci sono dei passaggi obbligati. Ecco, un passaggio obbligato diciamo così abbastanza precoce perché si trova abbastanza all'inizio di un cammino serio ma necessario senza il quale non c'è un autentico cammino di fede è la presa di coscienza profonda del nostro essere o essere stati grandi peccatori. Guai a chi pensa di non essere lo Stato o di non esserlo perché chi pensa di non essere lo Stato o di non esserlo certamente anche se non ha questa intenzione ma lo sentiremo dire dall'apostolo San Giovanni durante il tempo di Natale dice se diciamo che non abbiamo peccato facciamo di lui un bugiardo perché Gesù è venuto sulla terra per sapare i peccatori San Paolo scrive nelle sue lettere questa parola è certa e degna di essere accolta Cristo Gesù è venuto sulla terra per salvare i peccatori e di questi io sono il primo dice San Paolo e non lo dice tanto per fare sfoggio di pseudo umiltà dice ah così da qui dico sono un grande peccatore ti aveva fatto quante umili San Paolo no lo dice perché lui lo pensava veramente penso che tutti conosciamo l'aneddoto di San Francesco e attenzione dice ma io non mi sembra che ho fatto chissà che io chissà che cosa allora se non ti sembra che hai fatto chissà che io chissà che cosa non significa che non l'hai fatto bisogna vedere se ne hai preso coscienza se ti rendi conto di quello che hai fatto oppure no e a me se non concesso facciamo così che tu avessi avuto una vita molto preservata da parte del Signore nel senso che non ha permesso che tu cadessi in peccati troppo grossi anche qui però dobbiamo sempre tornare a raffinare un pochino la coscienza e dice ma quale è un peccato troppo grosso io anche su questa radio insomma penso che le sue ricorderanno catechesi catechesi insomma sulla confessione sui comandamenti perché oggi e questo è un problema che rimane nella coscienza dei fedeli quindi non ripeto perché non fatevi troppo insomma su questi argomenti ma la coscienza del peccato oggi è spenta cioè capite cioè una persona che mi aveva chiesto dopo che non ci mette via da vent'anni perché è morto il padre o la madre per carità questo è un evento luttuoso ma non si è confessato siccome è morto mio padre e mia madre mi aveva a fare la comunione è chiaro che questo non si rende conto di quello che fa ma fa una cosa allucinante insomma no è chiaro che in un processo autentico un cammino di conversione ci deve essere un momento doloroso di presa di coscienza del nostro essere peccatore poi attenzione un conto è la coscienza di essere peccatori un conto è la colpevolezza soggettiva che noi abbiamo dei peccati commessi questo è un altro discorso e su questo l'ultima parola non possiamo neanche dirla a noi stessi non lo può ne dire che si raccolta la nostra confessione né nessuno che ci voglia giudicare ma non possiamo dirlo neanche a noi stessi cioè io posso semplicemente mettermi davanti a Dio fare un esame di coscienza serio vedere la mia vita come è andata certo io lo so se per esempio in alcune cose ho agito malamente sapendo che non dovevo agire nel senso che la coscienza mi avvertiva magari può succedere che ho fatto anche delle cose molto gravi agli occhi dell'Altissimo proprio con totale incoscienza insomma con totale sventatezza ecco non avvedutezza e questo lo lasciamo giudicare da nostro Signore però questa tappa è fondamentale perché la grazia Dio la concede agli umili cioè noi dobbiamo prendere sul serio quello che ha fatto Gesù la passione la morte di Gesù la compassione di Maria la corretensione di Maria e se tu non prendi coscienza dell'essere radicalmente peccatore profondamente peccatore tu fai di Dio un bugiardo sarebbe come se tu dicessi benissimo tutto quello che ha fatto nostro Signore che Dio lo benedica ma a me comunque io non ne ho bisogno non mi serve e invece quando una persona si avvicina al Signore non solo che non ha bisogno lo fai come ma comincia poi a piangere qualche lacrima anche sulla passione di Gesù perché si rende conto che tutto quello che Gesù ha sofferto in realtà è stato causato anche dai miei peccati d'accordo perché il discorso che Gesù fa attenzione ad ogni singola anima come se fosse l'unica vale in tutti i sensi sia in senso positivo sia in senso negativo io devo pensare che anche i miei peccati personali hanno ucciso Gesù l'hanno ucciso la passione ecco quindi questo è il primo punto fondamentale San Bernardo dice fate pure il vostro esame di coscienza e vedrete come laddove abbondato il peccato sovrabbonda la grazia non è un problema Gesù è venuto dal mondo per salvargli i peccatori nel momento in cui tu ti riconosci il peccatore confessi i tuoi peccati con sincero pentimento quindi con il proposito fermo consapevole o non consapevole rotta e sei disposto a correggerla abbi fiducia nella sua misericordia ok quando qualcuna di queste cose dovesse ammancare dovesse ammancare c'è da fare delle operazioni serie di rettifica quindi tutto questo ribadisce che la grazia di Dio e l'essere in grazia di Dio che non può esserci se in noi sussiste una situazione di peccato grave è la prima cosa e la Madonna questa ce la dà è salutata lei stessa come piena di grazie attenzione qui San Bernardo dice una cosa molto molto bella il turbamento di Maria si domandava che senso avesse un tale saluto turbamento dovuto da questo anzitutto la Madonna dice mi saluta in questo modo quindi dice mo senza dubbio dice San Bernardo ella si riteneva indegna di quel saluto angelico le anime veramente grandi sono profondamente umile le anime veramente grandi lo sono perché si sentono tutt'altro che grandi questo è proprio uno dei distintivi fondamentali della santità e poi sulla base di questo dialogo come mai un angelo del signore dice San Bernardo chi osando il vangelo viene a me dice un angelo del signore viene a te perché tu sei più angelica di un angelo e qui c'è anche un piccolo paneggirico sul valore fondamentale della verginità teniamo presente che la verginità è valore questo ricordiamolo sempre abbiamo visto anche Maria Santissima Vergine per Petro quindi rimando per approfondimento a queste puntate precedenti ma la verginità è un valore venuto al mondo diciamo in pianta stabile con l'esperienza di Gesù e di Maria e che oggi ha bisogno di essere riscoperto su tutti i punti di vista sia il valore della vita virginale maschile o femminile quindi la verginità è un valore importante sia quando questo fosse abbracciato come vita angelica cioè appunto come uno stile di vita perché la verginità è immediatamente connessa cioè non è sterilità ma è fecondità divina non è solitudine ma è compagnia divina questo dobbiamo non è non ho un matrimonio ma ho un matrimonio divino quindi capite perché quando questo non dovesse succedere ecco come ci ricorda Papa Francesco a cui mi posso permettere spero in diretta radio di fare gli auguri che oggi è compleanno poi quella verginità si può come dire trasformare in una macchietta in una cosa bruttarella in una caricatura no ecco che per un maschietto diventa essere lo scapolone e per una femminuccia diventa essere la brutto termine la zitella può succedere questo qui purtroppo ecco quindi i consagrati devono fare sempre molta molta attenzione perché ripeto la verginità non può essere concepita come una vita da energumeri quindi privati di ogni affettività ma è un'affettività diversamente investita diversamente vissuta e quando questo c'è è certamente che la vita va alla grande e si vede però quando una persona è felicemente vergine o quando una persona è vergine tra virgolette forzata no ecco brutto questa cosa qui concludiamo con il nono paragrafo ecco perché vedo che il tempo corre dove San Bernardo ecco poi prosegue l'omelia ma noi ci fermiamo qui perché i tratti salienti li ha già affrontati prosegue nel dare qualche altra qualche altro spunto di conoscenze di meditazione avete notato come anche in questa maniera il nostro acquedotto sale fino alla fonte né penetra i cieli soltanto con la preghiera ma altresì con la verginità con la quale avvicina a Dio la quale avvicina a Dio come dice il sapiente si trattava infatti di una vergine santa di corpo e di spirito a cui ben si addicevano le parole la patria nostra nei cieli santa ripeto di corpo e di spirito affinché nessuno nutra dubbi su questo acquedotto sublime certamente e molto ma sempre incorrotto un giardino chiuso una fonte sigillata tempio del signore tabernacolo dello spirito santo non si tratta di una vergine stolta a lei non solo non manca l'olio ma la pienezza dell'ora nascosta nel vaso decide nel suo cuore il santo viaggio cioè la parola e la preghiera come abbiamo già detto rivolte a Dio infine la si mise in viaggio affrettandosi verso la montagna e salutò Elisabetta e rimase lì al servizio di lei per quasi tre mesi perché fin da allora la madre potesse dire alla madre la madre con la M maiuscola potesse dire alla madre con la M minuscola cioè Maria ad Elisabetta quello che tanti anni dopo il figlio disse al figlio il figlio con la F maiuscola disse al figlio con la F minuscola cioè Gesù a San Giovanni Battista lascia fare per ora perché conviene che così adempiamo ingiustizia con ragione Maria andò in una regione montuosa perché la giustizia è come le montagne di Dio ed è triplice questa ascensione della Vergine perché una corda a tre capi non si rompa tanto presto era fervorosa la carità della Vergine nel cercare la grazia luminosa la sua verginità nella carne eccelsa la sua umiltà nel servizio se infatti chi si umila sarà esaltato e cosa vi è più sublime di questa umiltà Elisabetta si meravigliava della sua visita a che debbo che la madre del mio signore venga a me ma ancor più e la si meraviglierà nel constatare che anche Maria a somiglianza di suo figlio non è venuta da lei per essere servita ma per servire in ammirazione di Maria pertanto il cantore ispirato dicea profetizzando chi è costei che sorge come l'aurora bella come la luna fulgida come il sole terribile come un esercito schierato Maria infatti sale al di sopra del genere umano sale fino agli angeli anzi al di sopra degli angeli e di ogni creatura celeste è necessario che la tinga al di sopra degli angeli quell'acqua viva che poi deve riversare sugli uomini bellissima questa conclusione l'acqua viva che Maria riversa sugli uomini è significativo che San Bernardo concluda diciamo così questa parte centrale dell'Omelia dedicata proprio all'approfondimento della mediazione della grazia con l'episodio della visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta dove rifulge certamente l'umiltà e lo spirito di servizio di Maria Santissima quindi è una sorta di manifestazione della fecondità della grazia stessa in Maria Santissima però c'è anche un altro particolare noi sappiamo cosa è successo alla visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta cosa ci dice il Vangelo che appena Elisabetta è budito il saluto di Maria succedono due cose il bambino le sussultò nel grembo ed Elisabetta fu piena di spirito santo lo sentiremo adesso questo numero di Vangeli che ascolteremo in questa splendida novena di Natale riascolteremo i Vangeli dell'infanzia sia secondo Matteo che secondo Luca in questi giorni quindi il Vangelo ci dice che la Madonna certamente rimase con lei circa tre mesi certamente per servirla quindi il fine come dire prossimo per cui Maria Santissima andò la Santa Elisabetta fu appunto come San Bernardo ci ha detto come suo figlio mettersi al servizio aveva un'anziana parente sterile rimasta incinta aveva certamente bisogno di assistenza e di aiuto ancor più che come sappiamo il suo sciagurato marito stava come dire in purgatorio scontandosi un po' di incredulità quindi mantenendo la bocca chiusa quindi non potendo neanche dare ordini alla servitù della casa per farsi dare una mano insomma anche nelle cose terra terra però ecco qui c'è una rivelazione grossa no? San Luigi Maria Monfort questo lo spiega molto molto bene che questo episodio è il primo miracolo nell'ordine della grazia la Madonna non ha fatto miracoli sul pianeta terra ma Gesù vivente e operante in lei attraverso la sua persona vedete la mediazione di Maria quindi attraverso la mediazione di quel grembo in cui lui era nascosto e rinchiuso a uno dato l'anticipo della grazia Elisabetta Pupiana di Spirito Santo a Santa Elisabetta e ha liberato dalla macchia del peccato originale prima ancora che venisse la luce San Giovanni Battista questa è la interpretazione comune costante degli interpreti cattolici su quel sussulto nel grembo di colui che si trovava nel grembo di San Giovanni di San Teresa Betossia di San Giovanni Battista quindi capite il primo miracolo Gesù non l'ha fatto a 33 anni con la nozze di cana ma l'ha fatto a pochi giorni dal concepimento con quale? la liberazione di San Giovanni Battista dal peccato originale e l'infusione della grazia in Santa Elisabetta ma questo non ci deve far stupire questo ci deve fare enormemente rallegrare perché vedete ancora una volta cosa ritorna qual è un aspetto fondamentale della considerazione del tema di Maria come mediatrice di grazia che è la cosa più importante che Dio cura è che noi stiamo in grazia i miracoli più grandi che Dio vuole fare sono quelli non nell'ordine della natura le nozze di cana ma nell'ordine della grazia il primo miracolo che Gesù ha fatto in maniera misteriosa non eclatante certamente no? quindi senza aspettare tutto quanto quel tempo è stato questo e l'ultimo miracolo che Gesù ha fatto che cosa è stata la risurrezione di Lazzaro sappiamo che i miracoli miracoli visibili i miracoli in ordine della natura queste cose le dico così se qualcuno degli ascoltatori va in giro per qualche quiz non facesse brutte figure no? primo miracolo di Gesù sono le nozze di cana ultimo miracolo sempre sensibile di Gesù sono la risurrezione di Lazzaro no? eh ma dopo la risurrezione di Lazzaro Gesù ne ha fatti tanti altri punto prima ha fatto il miracolo più grande di tutti subito dopo che non è risorgere un morto di quattro giorni ma è l'eucaristia cioè l'istituzione dell'eucaristia quello è il miracolo in assoluto più grande che Gesù abbia fatto anche se non non fa scena non fa colpo ma mica si è fermata all'eucaristia e avanti in altri bel po' perché alcuni ce li trasmette la tradizione altri ce li trasmette la storia e altri ce li trasmette il Vangelo gli vogliamo vedere dato che siamo a Natale per esempio durante la Via Dolorosa si narra che una santa donna abbia messo abbia asciugato il volto di Gesù e Gesù c'ha impresso il suo volto ammirabile in quel di Manopello quindi questo questo miracolo visibile d'accordo tra l'altro anche se dalle valenze molto molto profonde adesso non mi metto a parlare che è certamente di questo qui ma l'ultimo miracolo fatto da Gesù poco prima di di morire quale è stato la conversione del buon ladrone quindi ha cominciato attenzione quindi che è un miracolo nell'ordine della natura o della grazia della conversione del buon ladrone della grazia oggi sarai con me in paradiso cioè un gran peccatore un delinquente anzi perché possiamo senza offesa del buon ladrone chiamarlo come si doveva chiamarlo un delinquente condannato alla stessa morte di Gesù anziché bestemmiare ribellarsi o beffeggiare come faceva quell'altro ha accolto il ricamo della misericordia nel cuore e ha detto a Gesù ricordale di me a me mi sta bene quello che mi sta vivendo e chi è che ha fatto questo nel cuore del buon ladrone Gesù e chi c'era sotto la croce Maria qualche interprete qualche autore ha azzardato questa certamente è una cosa non dimostrabile quindi è una cosa devota d'accordo diciamo anche è una una bella cosa di possibile fantasia devota qualcuno dice il coraggio che il buon ladrone ha avuto di rivolgersi a Gesù lo ha trovato guardando gli occhi di Maria e come Maria guardava quel disgraziato che gli stava vicino quindi vedendo la Madonna e vedendo anche la sofferenza della madre di Gesù e vedendo la croce a me questo questo pensiero piace proprio tantissimo quindi questo giustamente è indimostrabile insomma mentre sicuramente cioè da Santa Elisabetta la Madonna ci è andata d'accordo che Gesù ha operato per mezzo dell'umanità di Maria sotto la croce non possiamo averne una certezza non ci abbiamo nessuna dimostrazione però mi piace pensarlo in ogni caso l'ultimo miracolo di Gesù è un miracolo nell'ordine della grazia così come il primo reale la conversione del buon ladrone e poi c'è stato perché uno l'ha fatto pure da morto qual è quello che ha fatto da morto è la Sacra Sindone la Sacra Sindone come il suo testamento d'amore è l'ultimo segno di fede insomma quello è un miracolo come dire visibile perché come tutti quanti i miracoli questi miracoli non sono questo San Giovanni è un grande maestro non sono importanti solo per la loro materialità che comunque è avvenuta ma perché sono segni che accreditano chi è nostro Signore cioè Filo di Dio fatto uomo comunque vedete si parte dalla grazia si termina con la grazia il primo grande gesto di comunicazione silenziosa tra l'altro della grazia è avvenuto per mezzo di Maria quindi l'ultimo è sicuramente una comunicazione di grazia forse avvenuta con la mediazione di Maria che comunque era presente questo ne siamo sicuri perché ce lo dice il Vangelo anche a questo ultimo miracolo e non è un caso che la Madonna fosse presente anche al primo miracolo nell'ordine della natura che anzi i Vangeli le nozze di Cana ci dicono essere stato fatto da Gesù su sollecitazione diretta di Maria Santissime cosa che fece dire a San Bernardo nel cantico della Divina Commedia che la tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma a molte fiori cioè la tua misericordia non solo soccorre a chi ti chiede una grazia ma molte volte previene la richiesta concedendo una grazia senza che nemmeno te la chiedano e sareste quante ne vedremo insomma quando andremo dall'altra parte di cose di questo genere attribuite dall'opera all'opera e alla mediazione e all'intercessione di Maria Santissima bene se ti guardo la prossima volta ci occuperemo della Santa Messa in onore di Maria Mediatrice di Grazia dove potremo vedere come la liturgia della Chiesa l'ex orandi ricordiamo sempre legge incredenti di Statuat vive celebra e crede questa importante verità di fede un santo Natale a tutti una santa novena di Natale un santo Natale a tutti con la mia benedizione Ave Maria di Natale Grazie a tutti